Prosegue l'attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di ponti e gallerie. Sul viadotto della Magliana sono in corso gli interventi per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Si stanno inoltre eseguendo lavori sul ponte Principe Amedeo di Savoia, sul ponte dell'Osa e nella galleria Giovanni XXIII. E' stata restituita ai cittadini dopo lavori di manutenzione via degli Armenti, strada strategica per la viabilità nel quinto municipio. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dei marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' stata inoltre rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale. E' stato lanciato da Roma Capitale l'avviso pubblico finalizzato al reperimento di alloggi da destinare al servizio di assistenza alloggiativa temporanea Sassat. Si vuole superare il sistema dei residence ed approdare al nuovo servizio di assistenza dedicato ad accogliere ed accompagnare le famiglie in condizioni di fragilità verso l'autonomia.